Ci troviamo al Teatro dei Concordi di Acquaviva di Montepulciano e siamo con i ragazzi del Vivaio dei Concordi, laboratorio teatrale dell'associazione Il Fierale e siamo qua con la coordinatrice Alma Trabalzini. Lo scorso fine settimana qua su questo palco è andato in scena Miseria e Nobiltà. Ha riscosso tanto successo, i ragazzi hanno lavorato tanto durante l'anno. Alma, qualcosa in più su questo BEL Progetto? Allora, il progetto è nato l'anno scorso e aveva come finalità principale quella di creare un gruppo che accrescesse, valorizzasse e custodisse l'interesse per l'attività teatrale dei teatri locali. I ragazzi e le famiglie hanno risposto a questo invito abbastanza favorevolmente. Già dall'anno scorso si è creato un bel gruppo e le attività sono divise in tre gruppi. Il gruppo A, i bambini più piccoli, il gruppo B, i medi e il gruppo C, i ragazzi grandi. Quest'anno abbiamo un numero di 31 allievi che vanno dai 6 anni compiuti ai 17 anni compiuti. Quindi le attività teatrali sono varie a seconda del livello e dell'età dei ragazzi e hanno come scopo principale quelli di creare loro l'interesse intanto per le attività teatrale, accrescere la loro autostima, la loro disinvoltura e oltre quello di avere i primi rudimenti di teatro, la recitazione, l'impostazione della voce, i movimenti, la gestualità, i movimenti del corpo, nonché quello della collaborazione al fine di realizzare un progetto comune. Quindi sono stati individuati anche dei gruppi che avevano incarichi diversi, quali la scenografia, quali la coreografia, la sceneggiatura per gli spettacoli natalizi addirittura e alcuni hanno avuto l'incarico anche di aiuto regia. Quindi un progetto di teatro a 360 gradi che forma i ragazzi dall'essere attori ma anche all'essere scenografi, costumisti, organizzatori e addetti alle luci, insomma tutte le attività del teatro. Ma andiamo a conoscere un po' meglio quelli che sono stati i protagonisti dello spettacolo, dello spettacolo appena passato, Miseria e Noveltà, e siamo con, come ti chiami? Giorgia. Giorgia, tu che ruolo avevi nello spettacolo? La ballerina. La ballerina. E come ti sei trovata a ballare con tutto il pubblico che ti guardava? Bene. Bene. Qua invece abbiamo? Alessia. E Alessia che ruolo aveva nello spettacolo? Ballerina. Anche tu. Allora alzatemi la mano chi era nel gruppo delle ballerine. Eccole qua le ballerine, eccole qua le ballerine. E qua c'è invece? Martina. Ludovica. Allora ballerine, come vi siete trovate a ballare in questo palco? Come vi siete sentite? Bene. E la maestra com'è stata? Gentile. Bene, la maestra è stata gentile, per ora le prime valutazioni sono buone. Qua invece abbiamo il gruppo dei più grandi. Lei è? Elena Perugini. Elena Perugini. Che cosa, qual era il tuo ruolo all'interno dello spettacolo? La signora. La signora. E che faceva sta signora? Perché è troppo generico dire la signora. Vettava una lettera felice. Mentre lì, ma c'è qualcuno che mi vuole raccontare invece la trama di questo spettacolo? Vedo, vedo che c'è lui che alza la mano, vedo che c'è lei invece che stanno tipo via, siete attori, quindi non mi dovete dire di no. Di che cosa parlava questo spettacolo? Allora, lo spettacolo parlava di una famiglia che era nella miseria e poi viene a casa un marchese che, visto che era innamorato della ballerina, della Gemma, che era la prima ballerina del San Carlo, Allora, gli chiede, visto che non voleva dire ai suoi genitori se poteva andare a conoscere i genitori di Gemma, l'ha chiesto a questa famiglia. E quindi, in una, come si può dire, in un appuntamento, in una cena, diciamo, hanno fatto finta di essere nobili. Nobili. Tu che ruolo avevi? Facevo la portiera del San Carlo. Ah, un ruolo importante, perché dovevi costudire il teatro. Tu invece? Io mi chiamo Aurora Giannetti e ero la stiratrice. Cioè, anche questo, dai, ragazzi, diciamo, tutti i ruoli importanti che costruiscono la scena. Qua, invece? Io sono Poggione Emanuele e facevo Felice Sciosciamucca. Non lo ridico perché è un po' non scioglilingua, devo dire, ma che faceva questo signore? Eh, era l'uomo povero che, appunto, insieme a Pasquale veniva accolto dal Marchese che, appunto, lo faceva diventare nobile. Qua, invece, abbiamo... Lorenzo Caravelli. Lorenzo Caravelli, a te ti faccio una domanda un po' più difficile. Come avete lavorato durante l'anno a questo spettacolo? Allora, abbiamo lavorato, credo, sempre impegnandoci. E in più, nelle ultime settimane abbiamo lavorato anche intensamente. Infatti, nell'ultima settimana, soprattutto, abbiamo provato tutti i giorni per quasi tre ore. Com'è stata la maestra in queste tre ore? Esigente? No, però, è stata brava, ha saputo sopportare, sopportarci a tutti. Ci ha insegnato anche a fare bene le nostre parti. Benissimo. Allora, io ritorno un attimo sui più piccoli perché qua abbiamo... Tommaso Mencatelli. E tu che ruolo avevi all'interno dello spettacolo? Avevo... Non ce lo ricordiamo che ruolo avevi? Eh... Che facevi all'interno dello spettacolo? Secondo me, ritorno dopo. Tu intanto pensaci. Allora, qua abbiamo invece Alessio, giusto? Allora, lui, mi voglio un attimo scostare dallo spettacolo perché i ragazzi del Vivaio hanno fatto parte della giuria dei ragazzi che hanno attribuito il premio durante il Festival di Teatro Amatoriale. E lui ci racconterà un po' questa esperienza. Com'è stato giudicare degli spettacoli e su quali sono stati i criteri che avete dato il voto, su quali avete dato il voto a questi spettacoli? Sì, diciamo, erano degli spettacoli dove noi appunto abbiamo fatto la giuria dei ragazzi e abbiamo valutato, diciamo, varie compagnie amatoriali. Per noi è stata una bella esperienza perché appunto abbiamo capito come possiamo stare sul palco, gli atteggiamenti e ti faceva, insomma, ti faceva vedere le interpretazioni, ti faceva capire appunto come ci si muove nel palco. e appunto diciamo che è stato bello perché noi tutti potevamo appunto votare queste compagnie e vedere delle persone più grandi. Votare delle persone più grandi ti faceva sentire una persona importante perché diciamo... vi insegnavano dei trucchi del mestiere. Sì, appunto, te potevi vedere un protagonista che ti entusiasmava molto e prendere vari spunti su quel protagonista e magari mettere nel tuo personaggio un po' del protagonista come stava sul palco appunto potevi imitarlo. Quindi catturavate un po' con gli occhi, eh? Qua invece abbiamo... Giulio. E Giulio che faceva nello spettacolo di Miseria e Nobiltà? Peppiniello. E Peppiniello chi era? Era il figlio di Felice. Felice, che era un bambino discolo? Boh. Boh, forse. Qua invece abbiamo... Bianca Tiezzi. Bianca Tiezzi. Tu che facevi? La portiera. La portiera. Quante portiere c'erano in questo spettacolo? Solo due. Solo due. Qua abbiamo... Azzurra. E Azzurra che faceva nello spettacolo? La ballerina. La ballerina, il gruppo delle ballerine. Tu come ti sei sentita a ballare su questo palco con la gente che ti guardava? Eh, bene. Eri un po' emozionata? Sì. Un po'. Torniamo nella fila dietro. Abbiamo... Virginia Pieroni. Virginia Pieroni. Tu che ruolo avevi? Eh, Luizella, la moglie di Felice... L'amante di Felice Sosciamocca. L'amante? Attenzione, abbiamo un amante! Senti, come ti sei trovata a lavorare con questo gruppo di ragazzi? Eh, bene. Questo è già il secondo anno. E... Siamo un gruppo molto affiatato. Come ci hanno detto anche il pubblico. E... Infatti ci hanno fatto molti complimenti. Eh, lo so, lo so. Avete riscosso tanto, tanto successo. Non solo per lo spettacolo, ma anche per il gruppo. Siete veramente un gruppo affiatato. E qua abbiamo... Elisa Terrosi. Elisa Terrosi che ha interpretato... La Fiorista. La Fiorista. Ma io non ti voglio chiedere dello spettacolo della recitazione. Perché so che voi comunque, come ha detto Alma prima, avete elaborato anche le scenografie e i costumi. Come avete elaborato su queste scenografie che, devo dire, sono veramente belle? Beh, le scenografie sono state ideate da Alma Trabalzini e anche da il gruppo dei più piccoli, insomma. La realizzazione invece qual è stata? Del Fiorale. Perfetto. Abbiamo un suggeritore. Giustamente perché nel teatro, ragazzi, c'è un suggeritore. Guarda, i grandi attori hanno sempre un suggeritore, vero? Qua abbiamo... Aurora. E Aurora era... Pupella. Pupella. Pupella che cosa è? Chi era? La figlia di Don Pasquale e Concetta. Pasquale e Concetta. Come ti sei trovata a recitare in questo ruolo? Bene. Bene, tutto a posto. Qua abbiamo... Angelina. No, il nome vero vogliamo. Matilde. Matilde che ha interpretato Angelina. E chi era Angelina? Una cameriera un po' fuori di zucca. Pup. E che sbagliava tutto in pratica e faceva molto ridere, diciamo. Ecco. Quindi il tuo ruolo era far ridere il pubblico. Guarda che è un ruolo difficile perché non sempre il pubblico ride, eh. Quindi se il pubblico ha riso sei stata bravissima. Infatti ho preso tanti applausi e mi hanno detto tanto brava. È stato un successo allora. Bene. Qua abbiamo... Serena Perugini. Serena Perugini. Sorella di qualcuno? Tu chi hai interpretato? Io interpretavo la cuoca. La cuoca. Anche a te però non ti chiedo dello spettacolo ma ti chiedo dei costumi. Perché i costumi li avete elaborati anche questi voi. Sì. Allora, i costumi devo dire che erano molto originali e belli. Infatti sono stati fatti anche molti complimenti. Non solo sulla commedia ma in modo particolare anche sui costumi. E bisogna dire che la rappresentazione dei costumi è grazie anche alle sarte che sono andate alla ricerca dei tessuti giusti. E che la sera invece di guardarsi un bel film alla televisione si sono messi a cuscire prendendo un gol filo. E hanno rappresentato quelli che hanno in questo mondo della commedia. E tra una sarta abbiamo anche... Abbiamo anche... Ce lo dici dopo magari, eh? Ce lo tieni in suspense. Qua... No, andiamo qua davanti. Questa bambina come si chiama? Rebecca. E Rebecca ha interpretato? Una ballerina. Una ballerina. Anche te eri nel team delle ballerine. Che cosa hai provato a ballare su questo palco? Un ballo... Insomma, no, difficile... Impegnativo, diciamo. Impegnativo, sì. E si doveva cercare di andare tutte insieme. Certo. E te ci sei riuscita? Sì. Insomma, sì. Il giudizio è stato positivo, eh? Qua abbiamo... Maria Chiara Pagliai. Allora, Maria Chiara, te sei una delle più grandi. Da quanto tempo fai parte del vivaio dei Concordi? Eh, questo è il primo anno. Quindi, scusa se rido, ma pensavo che ormai venivi da una lunga carriera nel teatro dei Concordi. Quindi il primo anno mi viene da chiederti come ti stai trovando all'interno di questo gruppo. Bene, perché collaboriamo tutti insieme e è bello, insomma. E' un'esperienza che insegna, appunto, a collaborare con gli altri e ad avere fiducia in se stessi. Chi ha interpretato nello spettacolo? Bettina, la moglie di Felice. Felice è lui. Mi dispiace, c'è un triangolo amoroso qua. E qua, invece, abbiamo... Terrosi e Erika. Erika, tu da quanto tempo fai parte della compagnia? Da quest'anno anch'io sono... E come ti trovi a recitare? Eh, bene, diciamo che, cioè, appena entrata non avrei mai creduto di poter recitare davanti al pubblico, perché sono molto timida. E... però mi sono trovata molto molto bene. E... l'ansia che avevo, insieme a tutti quanti e insieme alla maestra, che mi ha aiutato molto, sono riuscita a controllarla. E infatti poi sul palco... Ti sei sciolta e starà nascendo una grande attrice. Qua abbiamo... Lucrezia. Lucrezia, faceva parte del team ballerine? T'ho indovinato, eh? Allora, tu da quanti anni... quanti anni sono che balli? Due. Due, due anni. E qua... che cosa hai provato a ballare qua su questo palco? Ho provato a ballare un balletto molto scatenato. Scatenato? E perché era tanto scatenato questo balletto? Ci faceva un po' di allegria. Senti, e quanti applausi hai ricevuto? Tanti, anche i maestri mi hanno fatto tanti complimenti. Allora, alla fine vi facciamo noi un applauso generale. Qua abbiamo... Leonardo Trabalzini. Leonardo Trabalzini. Leonardo Trabalzini che interpretava? Don Giacchino e Vincenzo. E che ruolo era questo? Un po' difficile, solo che... Quando erano dietro le quinte, ho anche un po' di ansia, ma poi nel secondo spettacolo mi è passato. E' stemperato tutto, ormai la carica c'era, eh? Qua abbiamo... Giovanni Pieroni. Giovanni Pieroni, anche tu fratello di qualcuno? Sì. Oh, una famiglia di attori qui, eh? Anche te, eh? Buon sangue non mente. Chi ha interpretato nello spettacolo? Luigi. E che faceva Luigi? Era innamorato di Pupella. Era sempre elegante e era nella noviltà. Ma Pupella alla fine c'è stata o no? Sì. C'è stata, eh? Di un nomino elegante così mica si può dire di no. E qua abbiamo... Niccolò. Niccolò. Niccolò, tu da quanti anni reciti? Ma diciamo che recito da quest'anno nel... Però comunque ormai anche dietro le quinte sono... Insomma, da quando è iniziato il bivaio, poi... Quindi tu sei l'esempio di quello che diceva Alma, una preparazione al teatro a 360 gradi. Sì, perché comunque bisogna sia mettere insieme, insomma, sia il davanti, quindi la città, ma anche il dietro, perché comunque bisogna imparare a fare tutto nel teatro, che è importante. Che ruolo avevi nello spettacolo? Eh, io diciamo ero il Marchese Ottavio, conosciuto anche come il signor Bebè. E diciamo che io ero il nobile, il vero nobile insieme a mio figlio. E poi quello... No. E allora, eccolo. E praticamente io sarò anche quello che verrà, diciamo, praticamente preso in giro poi, in un certo senso, perché io comunque tutta la commedia si basa su comunque una persona che imitava me, al posto di me, quindi. Che io non dovevo conoscere i miei futuri sociali, ma praticamente io in realtà ero poi una persona che facevo il doppio gioco, perché comunque da una parte ero una persona che si fingeva un signor Bebè, quindi senza nessun titolo. E poi però andavo a criticare mio figlio, che invece gli piaceva una ballerina che non era nobile. E quindi ero un po', diciamo, strano. Senti, come ti sei trovato a recitare con tutti questi altri ragazzi e collaborare con 31, perché voi siete 31 ragazzi che vi dovete coordinare tra di voi? No, il gruppo è parecchio coeso, quindi si sta bene insieme. Ovviamente ci sono differenze di età larghe, insomma, ci sono ragazzi di 6, ragazzi di 15, ragazzi di 17. E quindi trovarci tutti insieme, sta tutti insieme, è comunque importante e bello, insomma. Qua abbiamo il figlio, allora. Come ti chiami? Leonardo Mercatelli. Senti, e che ruolo è stato il tuo, con questo papà un po' doppio giochista? Il marchesino. Ecco, e come è stato interpretare il figlio di Bebè, giusto? Bello, ero nel Nobel e ero tanto ricco. Nella ricchezza si sta bene, eh? Sì, è stato bello partecipare a questa recita. A me mi hanno fatto tantissimi applausi, anche i maestri, tutti. Tutti, tutti. Anche a te, eh? Secondo me un po' a tutti vi hanno fatti tanti applausi, perché secondo me siete bravissimi. Sì, a scuola. A scuola i maestri ci hanno fatto tanti complimenti. Ecco, allora vuol dire che la maestra Alma vi ha insegnato bene, eh? Sì. Qua abbiamo Dulcis in fundo? Gioele. Gioele. Gioele che faceva nello spettacolo? Il marito e il cameriere. Tutto, tutto fare facevi. Senti, come ti sei trovato a recitare con questi compagni? Bene. Bene. Allora io a questo punto richiamerei qua Alma. Abbiamo visto che qui c'è grande entusiasmo. I bambini, i ragazzi sono felicissimi e contenti di questa bella esperienza, perché oltre a insegnare teatro, li preparano ad affrontare la vita. Abbiamo sentito la timidezza, abbiamo sentito comunque l'ansia. Quindi è un insieme di emozioni e sensazioni che si imparano a gestire. Sì, effettivamente il teatro è una scuola di vita, in un certo senso, perché intanto la socializzazione, il gruppo, la differenza di età, la differenza di comportamenti, di carattere, di personalità. La gestione, diciamo, della propria personalità, con tutti i pregi e i limiti, eccetera, eccetera. E questo, diciamo, progetto che dall'anno scorso ho presentato appunto al fierale, che vorrei ricordare che senza questa associazione nulla sarebbe stato possibile, ringraziarla per la disponibilità veramente infinita e continua e assidua. Ecco, loro hanno un'opportunità importante per crescere. Credo che questo serva a loro a crescere. Lo spettacolo è stato un testo importante. Anno scorso hanno fatto Romeo e Giulietta di William Shakespeare, che io, diciamo, ho rielaborato e adattato il testo. Quest'anno c'è stato un riadattamento di miseria e nobiltà. Qui c'entrava di mezzo anche, diciamo, il dialetto napoletano, quindi per loro non è stato facile. Non era solo la memorizzazione delle battute, ma c'era anche proprio, no, l'accento e tante parole nuove. Comunque, sembra che tutto sia stato gradito e interessante. E per il prossimo anno state già lavorando ad un progetto, adesso tirate un sospiro di sollievo. Che cosa bolla in pentola? Dunque, per il prossimo anno posso dire una cosa soltanto, che l'intenzione degli allievi e anche di molte famiglie è quella di ripetere un'altra replica di questa commedia. Vedremo se qui o nei teatri dei paesi vicini. Ci organizzeremo comunque non prima di ottobre perché i ragazzi ora hanno gli esami, le verifiche, insomma hanno impegni scolastici, quindi ora è un momento di fermo perché si dedichano esclusivamente alla scuola. Poi riprenderemo a ottobre e vedremo cosa fare. Allora, terremo d'occhio questi ragazzi che veramente si stanno impegnando tanto per questo bellissimo progetto e per imparare a vivere il teatro a 360 gradi. Allora, loro hanno detto che hanno avuto tanto successo, che gli hanno fatto tanti applausi. Io vi saluto. Ragazzi, fatevi un grandissimo applauso a questo punto. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.